Eri tanto d'accordo? Cos'è che non ti convince? No, no, ascoltavo con attenzione tanto Severnini quanto la dottoressa Foa. Allora, l'elemento positivo sarebbe che forse salverebbe la vita a Ilaria Salis. L'unico elemento positivo enorme sarebbe questo. Dopodiché ci sono tanti elementi critici. Intanto Orban è un mezzo matto, quindi potrebbe anche addirittura decidere per dispetto di trattare o far trattare ancora peggio la Salis. Quindi potrebbe essere un atto nobilissimo che potrebbe generare dei disastri. Poi volendo fare una battuta, e so che non c'è motivo di farlo, ma Ilaria Salis ha un'idea di sinistra che è appena più di sinistra rispetto al PD. Quindi vi verrebbe da dire che forse la Salis neanche l'accetterebbe questa candidatura. Ma soprattutto ve lo immaginate in ottica di campagna elettorale quante botte, attacchi mediatici si prenderebbe il Partito Democratico se imbarcasse la Salis. Tutti passerebbero i prossimi mesi dicendo che voi addirittura per vincere le elezioni avete preso una che andava in giro e manganellava le persone e martellava le persone. Non l'avrà mai fatto la Salis, però sarebbe un boomerang pericolosissimo, tanto per la Schlein quanto per il PD, fatto in buona fede, fatto con intenti nobilissimi, però molto sdrucciolevole, molto rischioso secondo me. Sei d'accordo Lucio? Sì, sì, sarebbe sicuramente un boomerang per la Schlein. D'altra parte anch'io sono abbastanza indeciso perché effettivamente finalmente il Parlamento europeo servirebbe a qualcosa. Tu sei sempre molto severo diciamo con l'efficacia delle istituzioni europee. Grazie. 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 Grazie.